Ciao bambine e bambine dei Cocci Topi! Oggi vi voglio proporre alcuni giochi e alcune attività sulle vocali. Vi ricordate? Molti pomeriggi ci abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto un sacco di giochi a scuola e di attività proprio sulle vocali. Intanto, riguardiamoli un po'. Quante sono le vocali? Eccole qua! Vediamo se riconoscete la vocale, ma soprattutto chi sono queste bambine e questi bambini. Queste sono le vocali che abbiamo fatto con i vostri corpi il pomeriggio quando siamo stati insieme. La A La E La I La O Tonda Tonda Ed infine La U Il primo gioco che vi propongo è proprio questo, di provare in casa a rifare con i corpi vostri e dei vostri familiari le vocali. Magari trovate anche delle soluzioni diverse per costruirle con i vostri corpi. Provateci, fate delle foto e mandatele a noi maestri. Ora vi lancio un'altra sfida a voi e a tutta la famiglia. Vi proporrò delle opere d'arte di artisti molto importanti e famosi. In ogni opera d'arte si nasconde proprio una vocale e voi dovete cercare di trovarla. Pronti? Aguzzare la vista, occhi furbi. Inizia la sfida. Questa è un'opera di Giotto. In questa opera dovrete trovare la A. Provateci, cercate bene. In quest'opera di Dalì dovrete trovare la E. Vedete un po' dove si nasconde. In quest'opera di Hopper dovrete trovare la I. Questa è un'opera di Matisse. Provate a trovare la O. Infine, in quest'opera di Dubuffet, provate a trovare la U. Vedete un po' dove è nascosta. Bene, dopo questa immersione nelle grandi opere d'arti, vi lancio un'altra sfida. Allora, provate a costruire le vocali utilizzando alcuni oggetti che avete in casa. Ogni vocale costruitela con oggetti diversi, usando la vostra fantasia e creatività. Vi faccio vedere cosa ho realizzato io. Ecco, ecco le mie vocali. Ho fatto la A con delle caramelle, la E con delle monete che avevo nel salvadanaio, la I con dei dadi, la O con una collana, e infine la U con dei luci da labbra e dei rossetti. Ora, anche voi potrete costruire le vostre vocali con gli oggetti che avete in casa. Vi consiglio, prima di iniziare, di fare un giro per le varie stanze. Andate in cucina, andate in bagno, andate dove tenete i vostri giochi, per esempio, e provate a inventare anche voi le vostre vocali. Una volta che le avete realizzate, per favore fate una foto e mandatecele, perché siamo molto curiose, noi maestre, di vedere che cosa vi inventerete. Dopo questi giochi, vi propongo l'ultima attività. Non vi preoccupate, non li dovete fare tutti in un giorno, sono solo delle idee da realizzare quando avete tempo, voglia di realizzarle. L'ultima attività è un'attività di scrittura. Vi propongo di scrivere, su un foglio a quadretti, o se non l'avete, fate così, fate in un foglio bianco delle righe, i nomi, soltanto i nomi, dei vostri compagni, delle vostre compagne di scrittura. 5 anni o 6 anni. Una volta che li avete scritti, prendete un colore e iniziate a dare la caccia alle vocali. Cerchiate con un colore la A, con un colore la E, la O, la I, la U, e così via. Così potrete vedere quante vocali ci sono nei nomi dei vostri amici e delle vostre amiche. E poi, se avete voglia, li contate e accanto potete scrivere il numero delle vocali che avete trovato. Questa è l'ultima attività che vi propongo. Vi do un grosso, un grosso, enorme abbraccio dalla maestra Vale. Buon proseguimento. Un bacio a tutti e a tutte.